I quattro paesi arabi in rottura diplomatica con il Qatar hanno confermato le sanzioni applicate ai danni di Doha, sanzioni basate sull'accusa di dare appoggio al terrorismo islamico. La decisione arriva al culmine di un duro scontro cominciato un mese fa, scontro nel quale il Qatar compie una contromossa firmando a sua volta un'intesa per la lotta al terrorismo contro gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri del Qatar ha sottoscritto l'accordo con il segretario di Stato americano Rex Tillerson in visita a Doha. Mentre le luci sono puntate sulle accuse di finanziamento al terrorismo rivolte al Qatar da quattro paesi vicini che ci tengono sotto assedio, ha detto il ministro, il Qatar è il primo a firmare un programma esecutivo con gli Stati Uniti per lottare contro il finanziamento al terrorismo e invitiamo gli altri paesi a seguire il nostro esempio, ha detto in conferenza stampa. Contromossa incassata con indifferenza da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrain ed Egitto che hanno attuato una dura politica di isolamento nei confronti del loro vicino ed affermano che, nonostante l'accordo con gli Stati Uniti, continueranno a tenere sotto stretta osservazione le mosse di Doha.